Ciao ragazze, bentornate sul canale. Oggi farò il video per quanto riguarda l'album 11 di Yves Rocher. È un album molto bello, ci sono diverse novità, soprattutto nell'ambito capelli, visto che torniamo dalle vacanze e purtroppo tra il mare, il sole, la piscina, eccetera, i capelli si rovinano un pochino, allora Yves Rocher ha fatto un album dedicato più che altro appunto alla cura dei capelli. All'inizio abbiamo come sempre il sommario per trovare le varie categorie di prodotto e qui partiamo con le novità. Allora, la prima novità fa parte della linea riparazione, sono due novità. Una è questa qua che è il siero fortificante, texture leggera e fluida rende i capelli più forti e resistenti. I capelli sono protetti dalla rottura e ritrovano la loro morbidezza. Applica sui capelli asciutti o umidi e distribuisci sulla lunghezza. È un trattamento spray, costerà 7,95€. E poi abbiamo questa crema invece, questo trattamento notte, che è una crema da applicare durante la notte, al mattino ci svegliamo, pettiniamo i capelli e siamo pronti. È un trattamento che non prevede il risciacquo, per una nutrizione proprio potente, insomma, per rendere i capelli molto più forti, 20 volte più forti, aspettate che è scritto qua, 20 volte più resistenti come risultato. L'offerta prevede che si potrà avere uno shampoo più un trattamento a scelta, quindi può essere questo, può essere questo, a soli 7,95€. Quindi praticamente al solo prezzo del trattamento si può avere anche uno shampoo e si può abbinare lo shampoo che si vuole, non è necessario prenderlo della stessa linea. Gli shampoo da soli invece non sono scontati. Poi qui abbiamo anche gli altri trattamenti, vedete, tutti i trattamenti che hanno questo pallino verde, può essere anche la maschera che costa in questo caso 6,95€, a 7,95€ possiamo avere la maschera più lo shampoo. Possiamo avere questo che è la crema trattante senza risciacquo della linea riparazione, possiamo avere l'orio riparatore per capelli, la maschera per quanto riguarda la linea nutriente, poi questo che è un nuovo trattamento che è uno spray brillantezza istantanea. Aspettate che leggo. Intensifica la brillantezza in un gesto semplice e rapido. Questo va spruzzato direttamente sui capelli asciutti per renderli più brillanti. Devo dire che si nota perché ci ha fatto un video la nostra responsabile di zona, lei già ce l'ha, questo prodotto, l'ha spruzzato un pochino sui capelli e si vedeva veramente li rende più brillanti. E anche questo è un trattamento che può essere abbinato ad uno shampoo. Poi abbiamo tutti questi trattamenti, l'olio riparatore per capelli, la crema trattamento senza risciacquo, vabbè che forse la mangia visti di là, l'aceto da risciacquo e il siero lisciante. Poi qui abbiamo invece gli altri prodotti per quanto riguarda i capelli ricci, per quanto riguarda i capelli lisci. Qua abbiamo gli shampoo che si possono scegliere da abbinare sempre al trattamento. Possiamo scegliere anche per esempio lo shampoo alla camomilla, piuttosto che lo shampoo I love my planet. Possiamo scegliere anche questo Lama Melis, quello che preferiamo è abbinarlo ad un qualsiasi trattamento e averli a soli 7,95€. Ecco qua. Poi qui abbiamo come altra novità arrivato anche il balsamo per quanto riguarda la linea volume, che prima non c'era, al prezzo di 3,95€. Non ha un prezzo lancio, è il prezzo normale dei balsami Yves Rocher. E adesso passiamo invece al viso. Come viso abbiamo questi set, delle linee più basiche, io le chiamo. Questa è la linea Sebo Vegetal, che prevede il gommaggio purificante più la maschera purificante, a 12,95€. Qui sono spiegati i gesti, per prima esfoliare e poi trattare con la maschera. Qui abbiamo altri prodotti della linea. Abbiamo il set per quanto riguarda anche la linea Hydra Vegetal, per le pelli invece più secche, il gommaggio idratante, luminosità e freschezza, più la maschera di idratazione intensa, sempre a 12,95€. Qua abbiamo gli altri prodotti della linea. Qui abbiamo un'altra novità, che riguarda la linea Pure System, che è l'SOS Anti Imperfezioni. Lenisce i rossori dei brufoli, per un effetto calmante immediato. Costa 7,95€ ed è in set, insieme alla maschera purificante, sempre a 12,95€ entrambi. Qui invece abbiamo la linea Sensitive Vegetal, per le pelli sensibili, qua non c'è nessun set. E qui abbiamo una bellissima novità, almeno per me è molto bella, riguarda la linea Pur Camille, che è stata riformulata, è stata rivista, e al momento sono stati lanciati questi prodotti. Il gel detergente, che elimina impurità e trucco, senza seccare la pelle, quindi va anche a togliere il trucco. Poi abbiamo il 2 in 1, detergente più tonico, deterge e tonifica la pelle in un solo gesto, e poi come novità, l'olio micellare e detergente. Elimina il macchiage, anche waterproof, in tutta delicatezza, senza seccare la pelle. Scusatemi. Eccole qua, questa è una novità, questi sono i prodotti che già c'erano in linea, sono stati riformulati, c'è un nuovo pack, un nuovo flacone ecosostenibile, la formula è ultra delicata, senza siliconi, coloranti, oli minerali e parabeni. E costeranno tutti, no tutti no, questi due 4,95 euro, mentre l'olio struccante 9,95 euro. Questi sono 200 ml di prodotto, mentre l'olio 150 ml di prodotto. qua poi proseguiamo con i prodotti che abbiamo sempre in linea, qua tutta la parte delle creme per le pelli un pochino più mature, le varie tipologie di creme, zero difetti, qui abbiamo lo struccante per occhi, nei vari formati. Qui abbiamo un'offerta per quanto riguarda le matite stilo, due stilo occhi waterproof a solo 13,95 euro, si può scegliere il colore che si vuole, ovviamente. Qua abbiamo le altre cose di make-up, abbiamo i mascara, qui partono invece i fondotinta, cipre, i basi, qui abbiamo le labbra, gli smalti, i trattamenti per avere una manicure perfetta, gli accessori, qua abbiamo i profumi, dove abbiamo particolarmente scontato l'eau de parfum, evidenza 29,95 euro, il flacone da 100 ml. Anche gli altri vedo che sono piuttosto scontati, qui abbiamo i profumi da uomo, e qui abbiamo un'altra novità su cui mi soffermo un attimino, è il latte nutriente di queste linee corpo, sono stati lanciati dai nuovi formati, formato XXL, che è 390 ml di prodotto per 9,95 euro, col flacone d'usatore che è molto più comodo, questa è la linea nutriente, e lo stesso per quanto riguarda la linea idratazione. Qua abbiamo i prodotti per le mani, qui abbiamo un set per i piedi, che prevede il gommage piedi, la crema nutriente, il top coat effetto gross, 13,95 euro. Qui abbiamo qualche integratore, i solari per chi deve ancora andare in vacanza, Monoi, qui la linea Mamelis, gli odoranti, linea Bio, e qui abbiamo dei set che sono stati fatti con l'olio detergente, ad esempio in questo caso della linea vaniglia Bourbon, insieme al latte corpo, 9,95 euro. Il latte corpo è da 390 ml, quello grande con il dosatore, e l'olio doccia da 200 ml. L'abbiamo anche per quanto riguarda la linea al cocco, la linea all'olive petite grain, e invece per quanto riguarda la linea mango e coriandolo, e la linea lampone e menta piperita, l'abbinata è fatta con il gel doccia sfogliante, che sfoglia leggermente, fa anche schiuma, mentre ci si lava, e insieme sempre al latte corpo, da 390 ml, a 9,95 euro. Qua abbiamo il bagno schiuma, e qua abbiamo l'ultimo set, che prevede, mi avvicino un attimo, ne vediamo uno, prevede un bagno doccia da 400 ml, latte corpo 200 ml, l'oeu de toilette, in questo caso, fiori d'arancio, lavande petite grain, 20 ml, una salviettina ospite, e una pochette cartonata, 14,95 euro. Ecco, questo è il set, con la pochette, come potete vedere, e ce l'abbiamo per quanto riguarda la linea, appunto, olive petite grain, mango e coriandolo, che in questo caso, prevede l'oeu de toilette, al mandarino, limone e cedro, e poi, per la linea, vaniglia e bourbon, e in questo caso, ovviamente, l'oeu de toilette, è al profumo di vaniglia. Ecco, questo è tutto, ragazze, come sempre, se volete maggiori informazioni, se volete anche diventare clienti privilegiati, i brochets, mi lasciate un commento, poi io vi spiego, se volete particolari informazioni su qualche prodotto che avete visto, che, come sapete, sfoglia un pochino veloce, per non fare un video troppo lungo e noioso, insomma, per qualsiasi cosa, lasciatemi un commento, e poi, niente, ci sentiamo, e vi dirò tutto quello che so. Ciao a tutte, vi faccio vedere la mia manina, vi piace la mia manicure, che mi sono fatta bicolore un po' strana, ma non so se stanno benissimo questi due colori, però oramai ce l'ho, è quello semi permanente, non c'ho voglia di toglierlo subito. Vi saluto, ciao ragazzi, buona serata.